Mi serve che una partita difficile è comunque un punto portato a casa. Sì, portiamo a casa un punto, diamo continuità alla nostra, diciamo così, imbattibilità difensiva. È chiaro che qualche rimpianto, qualche ramarico c'è per come è andata la gara, però niente da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto una gara di grande volontà, di grande spirito come sempre. C'è mancata la zampata vincente e questo è un po' il rimpianto difficile. Grazie